se cercate un posto veramente bello tranquillo sul lago trasimeno a mezz'ora di macchina d'arezzo senza caos con le acque pulite per fare un bel bagno io non posso che consigliarvi una bella domenica a borghetto guardate che acqua guardate che posto spettacolare spiaggettine tranquille senza caos acqua pulita è un panorama che uno spettacolo appena usciti dalla provincia d'arezzo un chilometro fuori dalla provincia di arezzo borghetto sul trasimeno io ve lo consiglio grazie a tutti grazie grazie grazie